Gentili telesfettatori non ci crederete, ma c'è fuori un tariffario di Natale di ultima generazione. Sapete quelli che imbrattano i monumenti, bloccano il traffico per far sì che il tema del cambiamento climatico venga preso in considerazione in maniera più consistente dai governi. Hanno anche un tariffario. Vediamo quanto si fanno pagare per i blitz. Ho trovato questo articolo su Libero Quotidiano. E quindi c'è una lista di doni che si possono fare a ultima generazione sotto le festività natalizie. E così sul profilo ufficiale di Twitter, ultima generazione, fondo di riparazione, lanciano la raccolta fondi per il Natale. vere e proprie donazioni per riempire le tasche di questi manifestanti e questi soldi serviranno poi per progettare nuovi assalti, nuovi blitz, nuovi imbrattamenti di opere architettoniche, pubbliche, culturali, italiane, o per fermare qualche strada. Ce n'è per tutti i gusti, eh? Allora, per sostenere il prossimo attacco, allora, si possono donare 30 euro per 6 pasti caldi per sostenere un disobbediente per due giorni di azione. Allora, a me fa ridere, ma allora, io sono assolutamente convinto, come la maggior parte degli italiani, che ci sia in atto un cambiamento climatico e che i governi facciano finta di non vederlo, tanto chi se ne frega, cadrà la scura di questa cosa sulle prossime generazioni. E io lo vedo come un disastro che porterà probabilmente alla fine del pianeta. Però, però questa roba mi fa ridere, il 30 euro per 6 pasti caldi da sostenere un disobbediente per due giorni di azione, oppure 50 euro per 5 gilet ad alta visibilità per proteggere un intero gruppo di azione durante la protesta, oppure 90 euro per un viaggio di andata e ritorno per chi viene a Roma da lontano a imbrattare qualche muro. Ci sono persone che fanno il viaggio da tutta Italia, inclusa Sicilia, Sardegna, Friuli, Venezia e Giulia. Oppure, potete donare 130 euro per regalare una settimana di alloggio per una persona che sta protestando lontano da casa. Poi si passa alle cifre pesanti e le donazioni VIP. Si possono donare 500 euro per il supporto legale per una persona a processo. Ma anche, attenzione, 2000 euro per una formazione intensiva per 20 persone affinché abbiano gli strumenti per proteggere la loro salute mentale e fisica durante le azioni. Poi, attenzione, c'è il regalo dei regali, che è quello Platinium. 10.000 euro per finanziare personalmente un intero mese di azioni. Quindi con 10.000 euro potete intestarvi un mese di proteste di quelli che imbrattano i monumenti o bloccano le strade. Eh sì, il messaggio finale è questo. L'impatto del tuo regalo, caro donatore, sul morale di chi sostiene ultima generazione andando in azione è immensurabile. Chiediamo a chi sostiene il progetto da vicino o da lontano di aggiungere un asterisco disobbediente alla sua lista di Natale quest'anno. Ma a quanto pare la raccolta non sta dando i frutti. L'obiettivo fissato 10.000 euro in 18 giorni, finora nelle casse, sono finiti solo 359 euro. Una cifra che rispecchia bene il momento difficile che sta attraversando l'associazione. Bene, al raduno per esempio del 16 di dicembre, l'altro giorno, hanno partecipato 4 gatti in fila per 3, con il resto di 2. Eh sì, diciamo che questi seduti sulla strada a bloccare il traffico hanno cominciato a stufare. Bene. Ma spunta un altro proclama contro il governo Meloni sulle pagine dell'associazione che dicono «Siamo determinate a mantenere la pressione alta nei confronti del governo. Più di 100 persone sono entrate in disobbedienza civile, ricevendo multe, denunce, insulti, minacce, violenza fisica, e 18 hanno subito l'arresto». Ecco. Insomma, il nuovo pacchetto sicurezza varato dall'esecutivo comincia a dare i suoi effetti e meno male si comincia a far strada all'effetto deterrenza con buona pace scrive Libero di chi vuole regalarsi un blitz in piena tangenziale alle 7 del mattino bene quindi benefattori proprio quattro gatti altro che il premio la donazione platinum 10.000 euro per sostenere un mese di disobbedienza a imbrattare muri e sedersi in mezzo alle strade bene ma quelli come Saviano quelli che hanno i soldi potrebbero fare queste donazioni per regalare un mese di disobbedienza civile ecco va bene quindi io sono d'accordo e sono anche preoccupato che al mondo non freghi assolutamente una mazza del cambiamento climatico che ormai ma mi siete accorti quest'anno Natale con 20 gradi sembra Pasqua più che Natale è un Natale sopra la media in tutte le parti del mondo ormai il danno il danno che l'uomo ha fatto al pianeta sembrerebbe quasi irreversibile non so se si potrà più tornare indietro la popolazione aumenta i danni al pianeta aumentano noi fra qualche anno non ci saremmo più ma i nostri figli vanno incontro vanno incontro a dei disastri epocali il pianeta va verso l'autodistruzione purtroppo ma tanti non ci credono tanti ridacchiano sapete come si dice no ridi ridi no il riso è sulla faccia degli la risata è sulla faccia degli degli intelligenti non mi sembra proprio comunque il mondo è bello e brutto perché vario c'è chi vede quello che sta succedendo e c'è chi ridacchia ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie ricordatevi poi che ci sono video anche nella pagina tele italia seconda rete poi questi video sono condivisi nella pagina di facebook che si chiama tele italia dove lì se volete li potete condividere con chi volete grazie a tutti e arrivederci a presto